Ciao a tutti, sono Roberta, benvenuti nella filiale di Tavernerio. Sono consulente service e mi occupo dell'assistenza e accettazione per quanto riguarda i clienti. Al di fuori di Autotorino i miei hobby sono viaggiare e praticare e seguire sport. Il mio rapporto con i colleghi è ottimo, ci troviamo bene e non siamo solo un gruppo di colleghi ma anche di amici. Per me Autotorino è un'ottima azienda basata su fondamenta solide e un'importante opportunità di crescita nel mondo del lavoro. Autotorino è un'ottima azienda.